Mila Suarez è rifatta ma è pentita, nuove accuse all'ex fidanzato Alex Belli.Per chi ha seguito l'ultima edizione del grande fratello di Barbara D'Urso non è certo una novità Mila Suarez si è rifatta il seno e il naso e ne ha parlato apertamente nella casa più spiata d'Italia Interventi che, a detta della diretta interessata, la modella marocchina avrebbe fatto per piacere di più al suo ex fidanzato, l'attore Alex Belli Oggi che la relazione tra i due è terminata non senza polemiche e frecciatine Mila si è pentita di aver ritoccato due parti così importanti del suo corpo Soprattutto perché non si sente meglio e dovrà ricorrere ad una nuova operazione per riuscire a eliminare determinati disturbi fisici Mila Suarez si è rifatta per piacere di più ad Alex Belli lui reputava che avessi un dei caltei troppo piccolo ma a me piaceva così E anche il mio naso, secondo me, andava bene Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al dei caltei, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia, ha raccontato Mila Suarez al settimanale di più Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso Da quando l'ho rifatto, non respiro più bene e sto male Sono stata una stupida, ha aggiunto la 31enne La storia d'amore tra Mila Suarez e d'Alex Belli.Mila Suarez e Alex Belli si sono conosciuti nel 2017 complice un servizio fotografico Oltre a fare l'attore il 36enne è pure un bravo fotografo e gestisce un'agenzia d'immagine La relazione tra Alex e Mila è durata, con tanto di convivenza, un anno e mezzo Oggi la Suarez è ancora single mentre Belli è felice accanto ad Elia Duran, con la quale ha vissuto di recente l'intensa esperienza a Temptation Island VIP .